Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Stefano De Martino sembrerebbe vivere da qualche tempo assieme ad una donna molto famosa Ecco di chi si tratta.Stefano De Martino Belen.Stefano De Martino è un ballerino che da qualche anno ha intrapreso una carriera come conduttore televisivo Nato a Torre Annunziata nel 1989, comincia ad appassionarsi al mondo della danza dall'età di 10 anni e nel 2007 grazie ad una borsa di studio riesce a perfezionare il suo stile avendo l'opportunità di studiare presso il Broadway Dance Center di New York Stefano De Martino, ecco la donna con cui convive.Due anni dopo, nel 2009, prende parte alla nona edizione del programma Amici di Maria De Filippi dove vince il circuito danza ma non riesce ad entrare a far parte dei finalisti venendo eliminato nel corso della semifinale Grazie al suo percorso all'interno del talent riceve la possibilità di prendere parte ad un tour con i Complexions Contemporani Ballet facendo il Giro delle Hawaii, della Nuova Zelanda e dell'Australia Stefano De Martino convive con una donna famosissima.Nel 2011 torna all'interno del programma in qualità di ballerino professionista e contemporaneamente svolge la sua professione lavorando come insegnante di danza e coreografo prendendo parte anche allo spettacolo Cassandra di Luciano Cannito al fianco di Rossella Brescia Nel 2015 diventa supporter e conduttore del daytime di Amici e nello stesso anno partecipa al programma Pequenos Gigonte e se nel 2016 entra nel cast di selfie, le cose cambiano Stefano De Martino convive con una donna famosissima.Nel 2018 partecipa in veste di inviato alla tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, vinta da Nino Formicola, conosciuto con il nome d'arte di Gaspare per poi dal 2019 condurre il programma comico Made in Sud A dicembre del 2021 conduce Bar Stella, un programma in seconda serata dove ha la possibilità di esibirsi anche nel canto dimostrando una forte versatilità Dallo stesso anno conduce lo show stasera Tutto è possibile e dal 2021 diventa giudice del serale di Amici assieme ad Emanuele Filiberto e Stasch La rivelazione durante Amici.Sentimentalmente è stato legato con la cantante Emma Marrone per poi fidanzarsi con Belen Rodriguez che sposa nel 2013 per poi separarsi nel 2015 e tornare assieme nel 2019 interrompendo la loro storia nel 2020 A due anni dalla loro seconda rottura i due sono tornati assieme Durante la quarta puntata del serale di Amici, Stefano De Martino ha invitato la professoressa di danza Alessandra Celentano a ballare un tango con lei affermando di ballarlo spesso a casa sua quando litigano Stefano De Martino convive con una donna famosissima.A queste parole Lorella Cuccarini rimane sconvolta per via della rivelazione tra una convivenza tra i due, ma la frase del ballerino altro non era che un modo ironico di prendere in giro la coreografa cercando di stemperare la tensione che era nata tra lei e Raimondo Todaro Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video